Tutti lo conoscete, giusto? Come avete fatto ad arrivare fino a qui, superando tutti i malefici che ho messo lungo il percorso? Chi vi ha accompagnato negli altri più intimi e oscuri del mio castello? Chi è stato? Io vi ho accompagnati. E loro si sono mostrati coraggiosi e fieri e non temono dei tuoi minuti di minacce. Coraggiosi, questa cozzaglia di plebe così coraggiosi, puzzano di straniero, qualcuno qui è straniero. Sì, lo sappiamo e conosciamo anche la frase magica per aiutare lo straniero o essere aiutato da lui. Perciò il tuoi minacce sono inutili. Basta piacere, se sono così coraggiosi, vediamo se sono così intrepidi. Mi sottoporrò alla prova del dolore. Vediamo qual è lo straniero che subirà, quello che subirà questo bambolotto. Incominciamo a trafiggere un braccio. Ecco lo straniero, l'altro braccio. E' vero, e' vero lo straniero è qui fra di noi. Ma noi abbiamo una frase magica. Possiamo aiutare questo povero sventurato. Bambini, ripetete la frase magica che avete scoperto. Tomasina di testa in barco, signora del maniero. Libera dal malificio, con lui che è straniero. Un'altra volta, ci stavi prendendo? Vai un'altra volta bambini. Tomasina di testa in barco, signora del maniero. Libera dal malificio, con lui che è straniero. Ah, maledetti, siete stati troppo forti. E siete riusciti a sconfiggere il mio malificio. Ma non finisce qui. No, voi pensate, io ora me ne andrò. Ma mi sono impossessato delle vostre menti. Non vi libererete tanto in fretta di me. Vattene, vattene. Orrendo il fregone. Non temiate, non dovete temere quello che...